E' stato un sopralluogo congiunto, concordato con la provincia di Pesaro e Urbino, con la regione Marche, con il comune di Pesaro e con l'istituto di istruzione superiore Antonio Cecchi. Questa mattina, alle 9.30 circa, i tecnici di Talienti hanno visionato i locali del Cotma di Rosciano, come annunciato tempo fa dall'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin. Sono stati dunque verificati quali possano essere gli spazi disponibili, gli impianti elettrici e idraulici e quindi le condizioni e lo stato del fabbricato che potrebbe interessare lo spostamento del bienio dell'agrario a Fano. Ad occhio la situazione è buona, nel senso che i locali sono in buono stato, l'impiantistica pare essere buona, ovviamente adesso servono tutta un'altra serie di verifiche per poter valutare effettivamente quale potrebbe essere il grado e la capacità di accoglienza di questa struttura. Poi ovviamente c'è una seconda parte che chiamerà in causa tutti questi soggetti, provincia, regione, comuni, la stessa scuola Cecchi, per valutare come intervenire e con quali risorse. Però credo che sia importante il fatto che questa mattina tutti questi soggetti insieme abbiano deciso di verificare questi spazi, questa possibilità e che oggi concretamente questa cosa, come promesso, si stia realizzando. Ci sono buone prospettive anche secondo la preside dell'Istituto Agrario. Secondo la Giuliani, infatti, i locali del Codma sembrano adeguati. Avere una sede staccata significa dare ampio respiro alla scuola. La frequenza a questo istituto è in aumento, in progress da 4-5 anni. Quindi noi viaggiamo su circa 1000 studenti. Ogni anno facciamo dalle 9 alle 11 classi. Non ho più gli spazi per contenere la capienza degli studenti. E poi penso che sia l'unica scuola che oggi come oggi garantisca un inserimento quanto prima nel mondo lavorativo. Quando il problema viene condiviso, sì, penso che si possano trovare le migliori soluzioni. E vedo che c'è un'intenzionalità a voler affrontare positivamente la problematica, anche perché significa dare delle risposte serie al territorio.